Hanno firmato insieme brani diventati iconici, come per esempio Romeo and Jaliet. Sono i Daya Straits che ora piangono la scomparsa di un loro componente storico. Si tratta di Jack Sonny, nato in Indiana nel 1954 e scomparso lo scorso 30 agosto per cause sconosciute. Malato da tempo, le origini della sua malattia non sono state rivelate. La band Daya Straits Legacy, un gruppo composto da musicisti che hanno registrato e fatto tournée con i Daya Straits e con i quali Sonny era attivamente in tour, ha dato la notizia della sua morte su Facebook spiegando Il nostro amato Jack ha lasciato un vuoto nel nostro cuore e nella nostra anima. Ci mancherai tanto ma sarai sempre con noi, hanno scritto, accompagnando il post con una foto del musicista e con l'emoji di un cuore spezzato. Tanti i messaggi dei colleghi e dei fan della band britannica è con il cuore pesante che devo comunicare che il mio amico e collega dei Daya Straits ci ha lasciati. E riposa in pace, amico, ha scritto per esempio il tastierista Alan Clark. Successivamente anche l'account X, ufficiale dei Daya Straits, ha condiviso la notizia pubblicando una foto in bianco e nero di Sonny con la scritta Rest in Peace. Anche se la causa del decesso non è stata specificata, ancora a fine agosto i Daya Straits e Legacy avevano annunciato che Sonny non sarebbe stato in grado di suonare nei concerti imminenti proprio per problemi di salute. Sonny si unì ai Daya Straits per l'album del 1985 Brothers in Arms, che includeva successi come Money for Nothing e Walk of Life. Andò anche in tournée con il gruppo e suonò a Live Aid, dove fece parlare di sé, per l'eccentrico abito rosso che appunto indossò sul palco. Jack si esibisce con un entusiasmo e una spontaneità che sono una gioia per gli occhi. Ha suonato con innumerevoli musicisti di alto livello in ogni angolo degli Stati Uniti, sempre con passione e un'attitudine rock. Si leggeva nella sua biografia proprio sul sito dei Daya Straits Legacy al momento della scomparsa. Originario del nord-est, si trasferì a New York nel 1976 e formò una band chiamata The Leisure Class. Sebbene sognasse di diventare una rock star, accettò un lavoro come commesso in un negozio di musica locale. Qui fece però amicizia con i clienti abituali Mark e David Knopfler. Dopo l'addio ai Daya Straits del chitarrista Hal Linz, Mark chiese proprio a Sonny di partecipare al disco Brothers in Arms. E fu così appunto che ebbe inizio la carriera. E allora prima di salutarci vi vogliamo riproporre proprio Walk of Life, passeggiata della vita per così dire che ci porta dritti al 1985 con l'augurio di farvi cosa gradita nel ricordare proprio che fu pubblicata come singolo da quell'album citato Brothers in Arms. La canzone ebbe ruolo di singolo d'apertura nella maggior parte dei concerti della band negli anni successivi e poi è arrivata anche in prima posizione in Irlanda, in seconda posizione nel Regno Unito e in terza in Nuova Zelanda, mentre fu settima in Canada e nella Billboard Hot 100. Come quasi tutti i brani della rock band britannica è stata composta dal solo Mark Knopfel. È stato lui a spiegare l'espressione contenuta nel titolo che si riferisce solitamente ai viaggi che i cantastorie intraprendevano spostandosi di città in città. Non a caso infatti il videoclip di questa canzone nella versione europea ha come protagonista un musicista di strada che si esibisce e veste la stessa camicia che Knopfler di solito indossa durante, indossava durante i concerti di Dire Straits. La versione americana del video invece è composta da scene esilaranti tratte da partite di sport tradizionalmente statunitensi come baseball, basket e football. Non esistono ipotesi particolari che spieghino l'ispirazione di questa canzone, ma secondo la maggior parte il protagonista sarebbe ispirato al celebre Johnny Bigood di Chuck Berry. In ogni caso è adesso il momento di riascoltarla insieme. Grazie 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 Grazie